La Juventus è vicinissima al traguardo, la Juventus è vicinissima alla capitale tedesca, la Juventus è vicinissima a Berlino, la Juventus è in finale della Coppa dei Campioni, un manipolo di eroi, riesce a violare il Santiago Bernabeu, è stata una partita incredibile gentile ascoltatori. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS